Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, settimana numero 2 di Fortnite questa volta ci regalano lo standardo segreto. E quindi ragazzi, alle mie spalle state vedendo la schermata di caricamento della settimana numero 2. Non so se lo avete notato, immagino di no perché è coperto dal mio logo, ma se zoomiamo un pochettino ecco proprio che appare la posizione corretta dello standardo. Quindi ragazzi, torniamo in game e come vedete siamo dentro al vulcano, proprio nella bocca dove c'è il trono. Basta semplicemente raggiungere la parte sinistra dove c'è quest'uovo e qua, indicativamente, dovrebbe apparire il nostro primo standardo ufficiale della season numero 8. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi intanti al canale, noi ci vediamo in live alle 13. Ciao! Ciao!